Il giorno dopo, alle 10 esatte, ero davanti al portone di Palazzo Saporiti, lavato e sbarbato, 3 mm, non un micron in più, giacca di lino e cru sopra i jeans, camicia di garza bianca, solita cintura Calvin Klein, Nike vintage nere e l'immancabile Hermès. La Doriani era vicinissima al mio ufficio, 5 minuti a piedi. Stava in un superbo palazzo neoclassico, sì, ma erano già 30 gradi. L'umidità si tagliava con il coltello e non c'era un filo d'ombra né un portico. Ho dovuto aspettare, l'asciura era in ritardo. Da lontano ho visto la meda con una gonna a grossi riquadri blu e amaranto fino a metà polpaccio e giacca a sacco abbinata. Sembrava ci fosse caduta dentro. Lo stile era quello, Livia. Con fare non curante ho guardato l'orologio. Bene tenersi un po' di vantaggio. Allora, Miller, ci hai ripensato? Mi ha detto squadrandomi dalla testa ai piedi, senza neanche una parola di scuse. Sì, lo so, faccio un certo effetto sulle donne. Se ci avessi ripensato non sarei qui da quasi 20 minuti, anche se una bella donna è scusata di default. L'ho lusingato un po', ci ho provato almeno. Lei si è ammorbidita. Miracoli all'ombra della madonnina. Vogliamo entrare? Le faccio strada, ha detto con il tono della padrona della ferriera. La prima cosa che ho notato nella ula in cima alle scale sono state le gambe accavallate della segretaria, seduta dietro una massiccia scrivania 800. Gran belle cosce, caviglia fina, scarpa di coltè. Come inizio non era male. Buongiorno, dottoressa. Si è alzata di scatto con un sorriso appena bozzato. Neanche un cenno dalla mia parte. Buongiorno a lei, le ho detto sfoggiando il mio famoso sorriso dal lato migliore. Mentre lei mi guardava di sottecchi, la shurameda le ha detto imperiosa, mi chiami subito i consiglieri. Poi mi ha sbirciato e ha aggiunto, per favore. Subito, dottoressa. Il dottor Cardani però non c'è. È andato a scegliere la fornitura nuova per il suo studio, ha detto quasi scusandosi. Va bene, allora mi chiami Ferrara e Rinaldi. Siamo in sala riunioni. Anche il dottor Rinaldi non c'è. Viene questo pomeriggio. Siamo entrati in quello che probabilmente era il salone da ballo, gigantesco, sfarzoso e decorato con stucchi e affreschi. Dava su un portico ornato da colonne. È entrato un tizio pomposo. Dopo i convenevoli mi sono girato verso la meda. Vorrei parlare con lui da solo. Dottor Ferrara, immagina lo scopo di questo colloquio, vero? Fra noi non ci sono segreti. Possiamo stare benissimo qui, ha detto la meda irregidendosi. È una questione di praiva, si sa. Io ho la licenza per fare certe domande, ma sarebbe illegale infrangere la confidenzialità del rapporto. Ho detto serissimo. Capisco. Faccia pure, signor Millini. Quello che vogliamo è solo ritrovare il presidente e riaverlo qui, fra noi. È l'unica cosa che conta. A carta bianca. Faccia tutte le domande che vuole, mi ha detto con aria condiscendente. Forse ci teneva davvero. La segretaria sexy ci ha accompagnato in un ufficetto dietro la sala. In origine doveva essere il posto delle scope. Ferrara era pachidermico, viscido e arrogante. A occhi croce più di 150 chili di cazzimma. Chi ha da dirmi su questa assenza così lunga e senza preavviso, dottor Ferrara? Lo aveva mai fatto? No, di certo. Non sapevo neanche che andasse via e di solito so tutto. Mi avverte di tutto prima. Sa, siamo colleghi, anche se lavoro in un altro studio. Collaboro al sole 24 ore sul mercato di Milano. Ha detto come se questo gli desse una specie di diritto naturale essere informato. Ha continuato. Siamo amici anche fuori di qui. Andiamo spesso insieme al circolo del giardino, specie d'estate. Il fresco sotto quegli alberi è ineguagliabile. Lì abbiamo stretto gli accordi più importanti. Su cosa? Ho domandato. Sembrava reticente. Sulla fondazione e altri affari in comune? Ha risposto in tono vago. Da soli, senza nessun altro? Ho chiesto con tono piatto. Senza nessuno, ovvio. Neanche la dottoressa Meda. Ha detto con tono quasi allarmato. È la direttrice. Come mai non partecipava? Ho ribattuto. Dovevo provocarlo un po'. Ferrara si è mosso a fatica, sbuffando. La seggiolina antica scricchiolava paurosamente. Speravo che non crollasse sotto il suo peso e che non mi toccasse tirarlo su. La società del giardino è un club molto esclusivo e quindi è per soli uomini. E quindi... Capisco, ma lei perché pensa che il dottor Rossi si sia allontanato da così tanto tempo? Ha qualche idea? Non so. Un'amica? Ho detto protendendomi verso di lui con tono complice da uomo di mondo a uomo di mondo. Non lo so, ma non credo. L'avrei capito, Safra, a noi si parla. L'aveva già fatto in passato. Era sparito per tre giorni senza dirmi niente. Io sono il socio più anziano della fondazione oltre a lui e dovrei essere informato di tutto. Era poco prima che si decidesse la figura del direttore e ha fatto una smorfia quasi schifata. E dopo tre giorni, esattamente il 30 luglio di sette anni fa, sì, mancano pochi giorni ai sette anni, si è presentato in consiglio, deciso come sempre, insieme alla Meda. Ha detto solo, la dottoressa è il nuovo direttore. Un fulmine accelsereno per tutti. Non ci ha neanche consultato. Sembrava che il ricordo ancora lo turbasse. Siamo rimasti impietriti, io, Denari e Rinaldi. Poi Denari si è chiuso nell'ufficio sul retro insieme al presidente. Le ho sentiti litigare molto vivacemente. Forse mi sbaglio, ma ho sentito anche una botta sul muro. Sa, Denari è alto e atletico. Abbiamo fatto rugby insieme da ragazzi e se fosse stato colpito, è una pura ipotesi, sia chiaro, avrebbe fatto molto rumore. Il giorno dopo, Denari è stato invitato a lasciare il consiglio. Denari era il mio miglior amico e socio anziano di questo istituto. La carica sarebbe dovuta andare o a me o a lui. Sappiamo vita, morte e miracoli della Doriani. Conosciamo i partner e i donor. Entrambi sappiamo bene l'inglese. Ai nostri tempi abbiamo preso un master a Oxford. È importante per tenere contatti diretti. Certe cose si discutono a quattro occhi. Soprattutto siamo qualificati per questa carica. Io sono dottore commercialista e lui un noto avvocato matrimonialista. Sa, l'avvocato di personaggi del calibro di Eros Cavallotti, giocatori dell'Inter e così via, ha detto Sussiegoso. Era diventato tutto rosso in viso. La rabbia gli usciva fuori da tutti i pori. Bastava che non gli venisse un infarto, poi ammessa va bene. Ho ridacchiato fra me e me. Avvocato Denari. Omen omen. Sarà stato ricchissimo con quella clientela. Ferrara aveva insinuato che Rossi potesse avergli dato un pugno o una spinta, ma mi sembrava improbabile. Rossi era alto, sì, ma sovrappeso e decisamente fuori forma o almeno così sembrava dalla foto della meta. Ferrara aveva detto che Denari era alto e atletico. Mi sembrava più probabile il contrario. Se fosse andata così, sarebbe stato più che normale che Rossi lo avesse sbattuto fuori. Quindi Rossi e Denari non si sono lasciati in buoni rapporti, ho rilanciato. Siamo tutti dei gentiluomini qui. Quando si incontrano, si salutano, ma non si possono chiamare buoni rapporti, no. Denari ha perso questo incarico e anche quello di vicepresidente della Società dell'Opera Lirica, di cui Rossi è tuttora il presidente. Ancora non ne capisco il motivo. Eravamo un bel trio, abbiamo lavorato insieme per tanti anni. Anche io sono socio dell'Opera Lirica, ma socio ordinario. Sa, sono cose che non si perdonano tanto facilmente. La gente non lo ha invitato più come prima. Il suo studio ne ha risentito molto. Il caro Fabio è andato un po' giù. Sa quello che intendo, vero? Nel nostro ambiente questo non è molto ben visto. Ma ormai sono passati tanti anni, è roba vecchia, ha detto con un sospiro. Ho annuito. Denari era stato estromesso da due fondazioni. L'alta borghesia milanese lo aveva messo in disparte. Il lavoro ne aveva risentito. Era entrato in depressione. Erano motivi più che sufficienti per far sparire qualcuno. Se Denari era un po' furbo, aveva aspettato qualche anno. La vendetta è un piatto che si serve freddo. Ferrara si è alzato dalla sedia con evidente fatica. Speravo che la seggiolina 800 non si spaccasse. Anzi, ma non poco. Rossi aveva messo al suo posto la donna. Una donna in una società di gentiluomini, sia la società del giardino che la società dell'Opera Lirica. Non ammettono gentildonne. E per di più, una persona non qualificata. Aveva mandato via il suo amico. Anche questo sarebbe stato un buon motivo per far sparire il caro presidente.